La peculiarità del centro di Pisa è che noi portiamo avanti un percorso parallelo che è della sperimentazione. È stata presentata a Pisa la nuova area ambulatoriale destinata alla sperimentazione degli anticorpi monoclonali su pazienti covid positivi, su cui l'ospedale di Cisanello è partito per primo in Italia. Noi stiamo portando avanti il protocollo del cocktail monoclonale di AstraZeneca, che è una coppia di anticorpi che vengono somministrati per via intramuscolare. Poi dal prossimo maggio, si spera, riusciremo a decollare con gli anticorpi già celebratissimi di Toscana Life Science, che è un monoclonale unico, non è un cocktail somministrato per via intramuscolare. Fino a questo momento sono stati trattati circa 20 pazienti. Non gridiamo al farmaco salvavita, vogliamo verificare, come è nostro solito, dal plasma ai monoclonali il nostro percorso.